Ciao a tutti e benvenuti al mio video. Ora vi mostrerò un semplicissimo giochetto da bar dove provare a scommettere in compagnia con gli amici o con i parenti. Si prepara un calice, avendo semplicemente 4 struzzi cadenti, quindi 1, 2, 3, 4. Vedete? E una moneta dentro il calice. Che cosa succede? Il gioco sta nel riuscire a comporre, spostando solamente 2 struzzi cadenti, un calice nuovo dove però la moneta sia fuori. Quindi bisogna nel tempo di 2 minuti riuscire a spostare 2 struzzi cadenti in modo tale da formare un nuovo calice dove la moneta sia fuori. Una cosa divertente di questo gioco, quando si fa ad amici e parenti, sta anche nel giocare la moneta che appunto è dentro il calice. Ora vi dirò la spiegazione, quindi se volete provarci fermate un attimo il video. Bene, questa è la spiegazione del gioco. Gli struzzi cadenti da spostare sono due, come vi ho detto prima. Sono questo. Ci vedete? Sì. Sono questo. Quello che stava qui. E questo. Quindi, originariamente erano così. Adesso noi spostiamo in modo tale che la moneta sia sempre rivolta verso di voi, però fuori, senza quindi spostare null'altro. Quindi, ripetiamo brevemente quello che ho fatto. Qui c'era il calice. Ok. Ho preso questo stuzzicadente. Ho preso quest'altro stuzzicadente e li ho spostati. E la moneta è fuori. Grazie di aver guardato il mio video e al prossimo. Visitate molto il mio profilo. Grazie.